Canadesi, statunitensi eccetera. Triplo salto mortale e mezzo ritornato. Fatto gli 78-80 punti che ha fatto tante altre volte, sarebbe finita sul podio olimpico. Rimase comunque in corsa per una medaglia ma all'ultima rotazione a Londra pagò una cosa e l'Olimpiade con cinesi, messicane, canadesi, statunitensi eccetera. Triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato per Noemi Batki. Grande Noemi! E vai, e vai! Ha finito veramente all'ultimo però c'è... Che ha 284 con un tuffo ancora da eseguire. Quattro tuffi su quattro sopra i 70 punti. Bravissima e soprattutto mettere tensione alla Barrow che questo è l'importante. Deve sapere che c'è... Inward, three and a half tuck. Beautiful! She knows how to respond to her synchro partner that she just did a beautiful dive. Her too, her pose could have been a little bit more pointy to just be picky, but it was a beautiful dive. Perfect for me. Very difficult to find anything wrong here. I always say, oh, there it is. You get a peek at what's coming for you. Monster scores! 10, 10, 10! For Hongchan Kwan, 96 points. And Jennifer Abel beside me gets douce bumps from this dive. I do, I do, because when it's perfect, it's perfect. So it's really interesting to see. You, I do, because I'm not just going to put up a little more of the shift around this dive. I don't know. And I don't know what to do.